Tra bottoni ed elezioni, questi i due temi caratterizzanti della 26esima edizione di Erociocolate. Il Festival Internazionale del Cioccolato, presentato a Palazzo Donini, è pronto a colorare e ingolosire Perugia dal 18 al 27 ottobre. Astag attacca bottone è infatti il claim con cui il festival si appresta ad accogliere a Perugia il suo golosissimo pubblico. In primo piano c'è appunto il bottone, un oggetto di uso comune che ci accompagna in ogni momento della vita, il cui valore funzionale, ma anche e soprattutto simbolico e comunicativo, è spesso ignorato. Un oggetto il cui uso si perde nella notte dei tempi, con le prime testimonianze che risalgono addirittura al 2800 a.C. Durante Erociocolate la centralissima piazza Matteotti si trasformerà, con orario continuato dalle 10 alle 20 il sabato fino alle 22, in una sorprendente piazza dei bottoni dove i visitatori potranno entrare in un coloratissimo laboratorio e realizzare con le proprie mani tanti bottoni di cioccolato da portare a casa insieme allo stampo in silicone. Cosa vuol dire? Vuol dire recuperare un po' le relazioni umane, sociali, lasciare un po' da parte i social, trovarsi, incontrarsi per strada all'insegna del cioccolato. Per l'ennesima volta trasformiamo Perugia in una grande cioccolateria all'aperto, protagonisti di grandi cioccolatieri italiani, le grandi industrie, le piccole imprese artigianali e per 10 giorni laboratori, incontri, degustazioni. E la giornata conclusiva, quella del 27 ottobre, cadrà in contemporanea con il giorno del voto regionale. Se prefettura e questura stanno lavorando attraverso un tavolo tecnico per garantire la questione sicurezza, è certo che il seggio di Perugia centro, tradizionalmente collocato a Palazzo dei Priori, sarà spostato al liceo classico Mariotti e proprio per questo Eurociocolat ha deciso di venire incontro ai cittadini con un gustoso omaggio e una simpatica sorpresa è in arrivo anche per gli otto candidati regionali invitati a partecipare all'evento assieme ai rispettivi leader nazionali. Dal seggio all'assaggio, lo abbiamo chiamato così il titolo che vuole invitare chiaramente tutti i cittadini che si recavano normalmente al seggio elettorale di Palazzo dei Priori, il seggio numero uno e quest'anno è stato delocalizzato per appunto la concomitanza con Eurociocolat, coloro che andranno appunto a votare potranno poi tornare in centro storico e alletarsi con una golosa degustazione offerta da Eurociocolat. Abbiamo poi pensato di omaggiare gli otto candidati alla presidenza della giunta regionale Umbria con delle tavolette di cioccolato personalizzato, non made e photoshop che potranno ritirare appunto le logge di braccio in piazza 4 novembre, quindi invitiamo i candidati come tutti i cittadini Umbri ma non solo a venirci a trovare in questi dieci giorni, sono i benvenuti e perché no anche i loro leader nazionali che probabilmente una scampagnata a Perugia in quei giorni la faranno. Lo stupefacente mondo dei bottoni verrà arricchito da buttons e bottonarte, due mostre che verranno allestite presso l'ex chiesa della misericordia. Domenica 20 tornerà inoltre l'appuntamento con le sculture di cioccolato, senza dimenticare la ChocoCard, l'esclusiva carta servizi d'Eurociocolat che dà diritto a speciali omaggi e sconti durante l'evento, sia sull'acquisto di prodotti negli stand del Chocolat Show, sia presso alberghi, ristoranti, negozi, musei e altre strutture convenzionate e permette la partecipazione al concorso con in palio centinaia di premi, tra cui una Peugeot 108.